Palla che finisce in fallo laterale, si tratta della 43esima rimessa dal fondo, un numero simile di fallo operario, non si ricorda dal 15 giugno dell'83 partita a Bolivia e Salvador, valevole per le qualificazioni a Messico 86, la partita si concluse 4 a 4 con Reti di Santo, Shazisi e Doppieta di Abelardo, risposero i Salvadori, i Korkash tre volte, i Karls Heinrich, Uwe e Alles per il gol del 4 a 4 definitivo. Miano Tommasi, di Negra, provincia di Verona, molto cattolico di lui, si ricordano le splendide prestazioni nell'oratorio della cittadina natale, per lui 4 comunioni, 3 cresimi, 2 matrimoni alle spalle, senza parlare del battesimo, è stato uno dei più giovani battezzati in Italia, parla Vincenzo Montella, fermiamoci per un momento sulla carriera folgorante di Vincenzo Montella, il calcio lo ha aiutato a inserirsi in società, sposato alla moglie Rita, anche lei in questi giorni in Giappone come inviata dalla RAI, 18 settembre 1991, pare sia quella la data del loro primo incontro, si sono visti al doposcuola delle medie, di Pugliano d'Arco, lei era lì che lo guardava, lui era intento a rubare le merendine del compagno di banco, lei pare gli abbia detto ma cosa stai facendo Vincenzo, lui pare gli abbia detto sei molto carina, da quel giorno fu vero amore, si baciarono per la prima volta solo dopo 5 anni, ma pare che da quel momento non si siano più lasciati, l'evento più importante della vita. A beneficio di Alessandro Del Piero, detto Alex, in campo da 5 minuti e 34 secondi, un periodo difficile alle spalle per Alessandro Del Piero, una laurea mancata di un niente, a causa del mancato pagamento dell'ultima rata CEP, pare abbia promesso di studiare di più ma solo dopo il mondiale, prima gioco, segno, avrebbe detto ad un suo carissimo amico nella sala di un cinema de sé, poi con i soldi del premio partita eventualmente pagherò l'ultima rata. È successo proprio così, ti sa come finirà adesso. Ciao, ciao, ciao. Ciao.